In questo numero, in Lombardia sono oltre 670.000 le persone che vivono in condizioni di povertà, ma le linee guida assunte da Regione Lombardia danno una risposta ancora debole, aspettando il reddito di cittadinanza. Cos'è e a chi è rivolto il reddito di cittadinanza? I CAF CISL pronti a dare informazioni. CGL, CISL e UIL porteranno centinaia di migliaia di persone alla manifestazione di Roma il 9 febbraio per protestare contro le azioni economiche e sociali del governo. CISL e Università hanno organizzato per lunedì 4 febbraio il convegno Bergamo-Città d'Europa, un confronto a più voci, utile alla ricerca della ricostruzione di un rapporto virtuoso con i cittadini europei. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata aspettano da 13 anni il rinnovo del loro contratto collettivo nazionale di lavoro. Sta arrivando quota 100 negli uffici CISL e INAS tutte le informazioni per capire meglio. In Lombardia sono oltre 670.000 le persone che vivono in condizione di povertà relativa e più di 26.000 le famiglie che stanno beneficiando del reddito di inclusione. Ma le linee guida assunte da Regione Lombardia danno una risposta ancora debole a questa situazione di disagio. In più sta partendo la trafila per il reddito di cittadinanza. L'ultimo prevedimento della Regione Lombardia, con una delibera che cerca di dare un aiuto al contrasto alla povertà, ma è una risposta anche questa a Lombardia ancora debole, perché va sempre nella logica della monetizzazione e non cerca mai di dare risposte dal punto di vista occupazionale. Nel nostro Paese si dà cittadinanza alle persone che vi abitano se siamo capaci di creare posti di lavoro, perché solo attraverso i posti di lavoro noi riusciamo a ridistribuire il reddito e a dare dignità alle persone. Alcune ricerche, non ultima quella della Caritas in provincia di Bergamo, evidenziava nel 2017 che c'è ancora un aumento rispetto alla fascia di povertà. Abbiamo fra l'altro anche in provincia di Bergamo una realtà che magari può essere di tipo educativo, perché c'è un abbandono ancora della scuola. E quindi non è indifferente rispondere alla povertà dal punto di vista culturale, perché chi è più povero e chi è meno istruito trova sempre più difficoltà nel mondo del lavoro. Noi avevamo nel nostro Paese sperimentato il REI, che era anche questo, un reddito di inclusione sociale, ma come noi sappiamo in provincia di Bergamo ha dato risposte a una buona percentuale di persone. La sfida che noi oggi abbiamo non è tanto quella di dare risorse economiche che sono importanti, ma quella di saper creare posti di lavoro attraverso, e questo ci porta di fatto poi, al di là della risposta alle persone, a una coesione sociale molto importante e che quindi ci vedrebbe ancora una volta come organizzazione di rappresentanza protagonisti anche dentro questa partita. Il reddito di cittadinanza, quale risposta potrà dare alla povertà in provincia di Bergamo? Noi abbiamo una percentuale di circa il 20% ormai che sono nella fascia della povertà, povertà che è sempre in aumento, e quindi questo reddito di cittadinanza che può essere anche uno strumento importante, ma che va ancora in una logica di assistenzialismo ci preoccupa non poco. Il reddito di cittadinanza è un sussidio destinato alla popolazione che si trova al di sotto della soglia di povertà, che secondo la definizione dell'Istat è stabilito in 780 euro. Pertanto, una persona può richiedere il reddito di cittadinanza a quali condizioni. Prima di tutto c'è il valore ISEE da rispettare, quindi chi è interessato deve fare l'ISEE e non superare il valore di 9.360 euro. Un altro requisito viene dato sicuramente dal fatto che, oltre all'abitazione principale, la persona può possedere una seconda casa, ma il valore immobiliare non può essere superiore a 30.000 euro. Così come il valore immobiliare, che viene dato quindi da banca, depositi, titoli, conti correnti e quant'altro, non può superare 6.000 euro se la persona vive da solo, incrementato di 2.000 euro per ogni componente ulteriore e superiore al primo, per un limite massimo di 10.000 euro, con delle correttive che variano, quindi ci può essere un incremento, dato dal fatto che nella famiglia sia presente il disabile e quindi questa soglia può essere portata addirittura fino a 20.000 euro. Un altro requisito viene dato sicuramente dal fatto che la persona si deve trovare in uno stato di disoccupazione, non si deve trovare né in carcere, né tantomeno in una struttura sanitaria, quindi la cosiddetta casa di riposo. Un ulteriore requisito sarà dato poi dal fatto che la persona dovrà, o meglio la famiglia, dovrà rispettare anche un determinato valore reddittuale familiare. Per esempio, se la persona vivesse da sola e non fosse in affitto, il limite del proprio reddito personale non deve superare 6.000 euro. O se fosse pensionato, perché oltre al reddito di cittadinanza parliamo anche di pensioni di cittadinanza, non può essere superiore a 7.560 euro. Inoltre, non bisogna possedere degli autoveicoli acquistati negli ultimi due anni, autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 o motoveicoli superiore a 250. La domanda, il decreto non è stato ancora pubblicato, ma dovrebbe teoricamente partire dopo la prima settimana di marzo, quindi ipoteticamente dal 6 di marzo, tra il 5 e il 6 di marzo, si potrebbe già cominciare a compilare la domanda. Ci sarà un portale predisposto, che si chiamerà proprio reddito di cittadinanza, dove le persone potranno fare le domande. Una volta fatta la domanda, successivamente, non parliamo in questo caso di pensione di cittadinanza, perché sarà erogata direttamente dall'Inps, ma nel caso di reddito di cittadinanza, una volta compilata la domanda, e cominceranno le persone a percepire questo sussidio tramite una carta prepagata, spendibile per pagare beni di prima necessità o pagare le bollette, possono essere prelevati al massimo 100 euro da questa carta e successivamente queste persone saranno poi contattate dal centro per l'impiego, dove insieme a loro faranno il cosiddetto patto sociale, dove ci sarà un inserimento nel mondo del lavoro. Partirà quindi la ricerca più, o meglio, la ricerca adatta del lavoro per la persona, quindi con una riqualificazione professionale. Le possibilità lavorative, naturalmente, la prima offerta sarà a 100 chilometri, se la prima offerta verrà rifiutata andremo a una seconda proposta a 250, se anche la seconda non va bene, sarà su tutto il territorio italiano. È in programma il 9 febbraio la manifestazione unitaria di CGL Cisle Will a Roma per provare a scuotere il governo e per far cambiare linea sui temi importanti delle infrastrutture, del fisco, della rivalutazione delle pensioni e delle politiche per lo sviluppo. In vista di questo appuntamento, l'FNP Lombardia ha chiamato a raccolta il suo Consiglio Generale per approfondire i punti della manovra finanziaria che più incidono sui propri iscritti. Lo scenario italiano risulta preoccupante, la bassa produttività e la scarsa crescita del nostro paese fanno temere ad una nuova stagnazione, mentre è già realtà il blocco dell'ascensore sociale. Non c'è più mobilità, chi nasce oggi in una famiglia povera ci mette, secondo le statistiche, ben quattro generazioni per costruire una famiglia a medio reddito. Il giudizio su quota 100 non è negativo, ma la misura non basta. Pensionati attivi della CISL chiedono maggiori tutele per chi resta fuori dal provvedimento e per le donne, ampiamente sfavorite rispetto agli uomini. Sul fronte del lavoro, se da un lato i giovani under 34 fanno sempre più fatica a trovare un'occupazione, aumenta invece del 65% il numero degli over 55 che lavora e nonostante la crisi, 2 milioni di pensionati continuano a fare consulenze e a prestare servizio. Richiamando l'attenzione sull'importanza della mobilitazione unitaria del 9 febbraio, il segretario generale della CISL Lombardia, Ugo Ducci, ha ricordato la natura sempre più strutturale della crisi che attraversa il nostro paese. Con l'approssimarsi delle elezioni europee diventa fondamentale per un approfondimento su competenze, poteri e possibili prospettive dell'Unione Europea, per arrivare alle urne preparati e consapevoli che anche dalle nostre decisioni dipende il futuro dell'Europa. Così, CISL e Università hanno organizzato per lunedì 4 febbraio il convegno Bergamo-Città d'Europa, un confronto più voci, utile alla ricerca della ricostruzione di un rapporto virtuoso con i cittadini europei. Crediamo sia un appuntamento importante dal punto di vista economico, politico e soprattutto sociale. Oggi l'Europa rappresenta ancora il sistema sociale più avanzato al mondo, quello che tutela meglio i lavoratori e i pensionati che noi rappresentiamo. Dobbiamo puntare a migliorare la nostra Europa, un'Europa che si interessi delle persone e non solo dell'economia, ma bisogna stare attenti che questo passaggio è delicato perché oggi forse l'Europa non è mai stata così debole. Abbiamo creduto tutti nell'Europa e crediamo sia ancora oggi, più di ieri, necessario stare insieme per tutelare le persone, difendere le persone, soprattutto i più deboli. L'esempio europeo è un esempio che va in questa direzione. Purtroppo in questi ultimi tempi è messo in forte discussione, sta a noi europei, a noi italiani, favorire che ci sia una nuova Europa, rafforzare l'Europa in prospettiva. Abbiamo organizzato questo convegno con l'Università perché riteniamo che l'Università di Bergamo insieme alle aziende produttive del nostro territorio siano quelle che danno una dimensione europea alla nostra provincia. Un'Università che è sempre stata molto attenta ai temi internazionali e del territorio. Ecco perché abbiamo deciso di farlo con loro, questo approfondimento. Le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata aspettano da 13 anni il rinnovo del loro contratto collettivo nazionale di lavoro. Le trattative con le associazioni datoriali di ARIS e IOP sono aperte da circa un anno e procedono con lentezza innaturale e pretestuosa. secondo le organizzazioni sindacali. Per cui la conclusione delle trattative e la firma tarnano ad arrivare. Durante questi 13 lunghi anni le lavoratrici e i lavoratori della sanità privata hanno mostrato un grande senso di responsabilità e di professionalità addossandosi sempre carichi di lavoro in più e sempre sforzi in più che venivano chiesti dalle aziende. In queste aziende che comunque erogano quello che è il 47% delle prestazioni sanitarie su tutto il territorio regionale sarebbe davvero ora di metterci la mano e la firma su quei contratti. Contratti che sono ormai obsoleti anche nella parte normativa che vuol dire rinunciare a diritti per i familiari e per le proprie cure. questo andare avanti di tutti questi lavoratrici e questi lavoratori è dovuto davvero al grande senso di responsabilità. Le aziende purtroppo investono solo in strutture, in muri e non investono su quello che è il personale. Regione Lombardia deve anche capire che il metodo di calcolo dell'assistenza in minuti non porta da nessuna parte. Da questo calcolo poi si considera quello che è il personale che serve nelle corsie e nei servizi di diagnosi e cura. Un calcolo matematico che porta a delle gravi insufficienze di organico e a dei gravi disservizi. I pazienti non riescono ad essere assistiti così come dovrebbero essere assistiti. Chiediamo l'aiuto e la solidarietà e soprattutto la comprensione dei cittadini che si rivolgono alle nostre strutture per questi piccoli disagi, ma si rende davvero necessario. La legge di stabilità ha confermato la possibilità di andare in pensione con quota 100, cioè sommando 62 anni di età e 38 di contributi. Per accedere a questo nuovo tipo di pensione, però, saper fare la somma non sarà sufficiente. In questi giorni sono moltissimi cittadini che si stanno rivolgendo al patronato della Cisla per capire se possono andare in pensione con il nuovo meccanismo e a quanto ammonterà il loro assegno pensionistico. Questa quota 100 è una delle modalità per il pensionamento anticipato e non è stata certo cancellata la riforma Fornero, per cui dal 2012 i codici di trasformazione sono stati variati e sono un po' più penalizzanti, più si è lontano dall'età di vecchiaia, che tra l'altro notiamo che non ha avuto il blocco dell'aspettativa di vita, quindi è stata portata a 67 anni. Potrebbero essere circa 9.000 le persone interessate a questa quota 100, di cui 3.500 dal settore pubblico. E questo potrebbe anche creare qualche problema sul servizio. Questa misura lascia, bisogna considerare, che lascia fuori molti lavoratori, soprattutto diciamo quelli più deboli, nel senso che hanno lavori meno qualificati o hanno avuto discontinuità nel percorso. Pensiamo ad esempio alle donne, dove si sa mediamente che una donna intorno ai 62 anni può avere circa 25 anni di contribuzione. Pensiamo ad esempio ai lavoratori dell'edilizia, dove si stima che intorno ai 65-67 anni questi lavoratori, mediamente, ovviamente, hanno una contribuzione di 27-30 anni. Diciamo che in questo caso, in tutte le pensioni anticipate, è stato bloccato l'aumento dell'aspettativa di vita, ma sono state introdotte le finestre, che per i lavoratori del privato sono trimestrali, peggio ancora per i lavoratori del pubblico, sono semestrali. Questo in qualche modo va a erodare il guadagno del blocco dell'aumento dell'aspettativa di vita. Le nostre sedi INAS che sono comunque presenti in tutta la provincia bergamasca, sono in grado di consigliare e di rispondere ai bisogni di ciascun lavoratore, facendo anche uno studio personalizzato, in modo da chiarire quando sarà l'importo e eventualmente presentare domande di pensionamento.